C'è una battuglia della polizia che fa la guardia a una buca. Accade anche questo a Roma, dove il problema delle buche adesso diventa un fascicolo della procura che avvia un'indagine dopo vari esposti. Le strade della capitale non sono mai state perfette, ma adesso la situazione è drammatica in molte zone persino del centro. Limiti di velocità di 30 km orari in tangenziale, via chiuse e per le riparazioni servirebbero 250 milioni all'anno per 5 anni. Siti come Roma fa schifo, da cui provengono questi video, cercano di sensibilizzare l'amministrazione e denunciare l'incuria, ma con scarsi risultati. In sette anni ci sono state oltre 10.000 segnalazioni, ma non sono bastate. Inoltre, ormai da tempo, chi ha un incidente a causa di una buca non chiama solo il carroattrezzi, ma anche la polizia e intenta poi causa civile a Roma capitale. È vero che i rimborsi non possono eccedere ai 12.900 euro, ma se moltiplicati per migliaia possono pesare sulle casse di un'amministrazione cittadina, ben oltre l'orlo di una crisi di nervi. Grazie.